Mancano pochi minuti alle otto, gli studenti si preparano ad entrare in classe. All'istituto scolastico salesiano Don Bosco, tra i nuovi maturandi, si respirano ansia, preoccupazione, ma anche emozione e voglia di dare il meglio di sé per quella che rappresenta l'ultima volata finale verso il tanto atteso diploma. Ansia, preoccupazione? Poca. Hai già scelto la tipologia che affronterai? La C di sicuro. Siamo ancora un po' sulle spine perché essendo i primi, ancora tante cose, insomma, sono un po' un mistero, quindi c'è ancora un po' più di ansia, però insomma abbiamo lavorato un anno e sicuramente qualcosa faremo, ecco. Alle 8.30, come da regolamento, si apre il plico telematico e dopo tanti pronostici vengono resi noti i titoli delle sette tracce. Tra gli autori scelti c'è tra gli altri risvegli di Giuseppe Ungaretti e il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, per passare all'attualità sui temi della mafia e dello sport. Ed è un rito appunto di passaggio, che porta ansietà ma nello stesso tempo anche la consapevolezza di aver chiuso un percorso e di affrontare poi gli studi universitari. Qualche consiglio per vivere al meglio questa nuova maturità? Direi che i consigli sono i soliti. Se uno ha studiato, poca ansietà, capacità appunto di rielaborare le conoscenze che ha realizzato e cercare di dare il meglio di sé. Passata la prima, al via domani alla seconda prova scritta multidisciplinare. Tra le novità, dopo l'abolizione del tanto temuto Quizzone, la terza prova, si passerà direttamente agli orali e per rompere il ghiaccio gli studenti. Non si presenteranno più con la solita tesina, ma dovranno pescare una busta. Penso di fare la B, poi vedo se c'è qualcosa che mi ispira. Le novità di questa nuova maturità ti sono piaciute? Allora, è venuta meno la terza prova e si è dato più peso al rendimento degli ultimi tre anni scolastici, quindi questo dal mio punto di vista è stato positivo, però bisogna vedere. Seconda prova matefisica insieme, orale, le buste, insomma, bisogna vedere.